Crea un kit di benvenuto personale alla tua riunione tramite articoli personalizzati. Abbina il logo della tua azienda ai singoli nomi dei partecipanti. Vuoi congratularti col tuo team per il completamento di un progetto di successo? Un regalo personale inviato ad ogni membro del team ne aumenterà il valore percepito. Tutto questo senza che tu debba pensare né all'organizzazione né alla logistica. Crea una relazione personale con un regalo personalizzato. In una confezione personalizzata, con un messaggio personale. Tutto spedito individualmente. Personalmente.